Il lavoro che abbiamo fatto io insieme con altri colleghi consiglieri comunali di Foggia, anche di minoranza, proietta una visione della politica, questa volta con tanto di parole scritte, con una proposta costruttiva dove c'è anche una seconda stazione, c'è l'estensione dei collegamenti dal Gargano, San Severo, Monti Dauni e Manfredonia verso questa nuova stazione e anche la previsione di un collegamento tra la stazione sulla rete ad alta velocità e l'aeroporto Ginolisa di Foggia in modo tale che ci sia una visione sistemica e integrata della mobilità per merci e persone. Abbiamo pensato anche alla piattaforma logistica in zona ASI, quindi all'incoronata e in più una rivisitazione, dopo che si faranno degli approfondimenti con il gruppo ferrovie dello Stato, sulle aree dismettibili, così da guardare anche alla pianificazione territoriale. Dove si troverebbe questa stazione e a cosa servirebbe? A circa 4 chilometri dalla stazione attuale, ribadisco collegata stabilmente con l'estensione dei collegamenti ferroviari che oggi vengono dal Gargano e da San Severo, nonché quelli da Monti Dauni e Lucera verso questa nuova stazione e quindi si troverebbe collocata più o meno nella zona vicino a San Lorenzo in Carmignano, quindi entro la cinta urbana e con una previsione anche di collegamenti stradali ottimali. Perché quella che abbiamo adesso non basta? Perché così si andrebbero a ridurre i tempi di percorrenza per i foggiani, per i cittadini della Capitanata, ma per l'intera Puglia e parte della Basilicata in esattantitesi con quanto ha previsto e proposto il sindaco di Bari e il presidente nazionale Anci De Caro. Io credo che questa sia molto più significativa, ringraziando i colleghi consiglieri che mi hanno dato questo sostegno perché condividono l'idea, io credo che un consiglio comunale monotematico a breve da farsi su questo argomento potrebbe innescare un'utile riflessione e ottenere magari il tavolo interistituzionale che l'amministrazione comunale di Foggia ha chiesto il 30-11 del 2016, quindi quasi tre mesi fa. Grazie a tutti.